Ciao, bambini. Ciao, bambini. Sono Florie. E io sono Tuffy. E siamo i ma senza se. Sigla. Ma già, così? Sì. Va bene. Chaghi, chaghi, chaghi. Gigi, gigi, gigi. E poi c'era quello che faceva. Salu, salu, salu. Bula, bula, bula. Non te li ricordi mai, però. Scusa. Fai la seppia. Fatta. Senti, dobbiamo dire ai nostri bambini perché adesso abbiamo preparato il nuovo film. Veramente? Sì, perché non ti ricordi quando l'abbiamo girato? No. Non te lo ricordi? No. È una sceneggiatura bellissima. Sì. I ma senza se nella fabbrica di cioccolato. La cioccolata, la cioccolata. Sogno per l'onga la cioccolata. La cioccolata, la fabbrica, la fabbrica, vedevamo a me, vedevamo a me. Venga, boi. Sogno per l'onga, boi. La cioccolata. Non è lumba lumba. Lumba. Eccomi. Lumba lumba, fai un balletto lumba lumba. Lumba lumba. Però lo voglio fare nella tua mano. E non ci dai cioccolata perché questa è la fabbrica di cioccolata. Mangia cioccolata. Lumba, lumba. Allunga un balletto sopra la mano. Vengo dalla mano perché sono piccolina io. È piccola. Vai, eccola. Vai, eccola. Bravo. Bravo lumba lumba. Lumba. Bravo lumba lumba lumba. Vengiamo un bambam. Lumba. Eccola qua. Bravo lumba lumba. Vi è piaciuto il film? Sì. Era bellissimo. Era bellissimo. Però stavolta non vi diciamo quanto costa il biglietto. È volgare parlare di soldi. È volgare parlare sempre di soldi. E noi non siamo volgari. Però adesso ce ne andiamo. Andiamo verso giù. Sì e voi compadre i biglietti che non vi diciamo quanto costano. Ciao bambini. Ciao bambini. Ciao. Ciao. Ciao.